Vacca, ma ancora ha senso oggi mantenere regole differenti tra pubblico e privato? Sostanzialmente diciamo che le regole ormai con gli ultimi interventi normativi degli ultimi decenni si stanno di fatto uniformando. Il problema però è un altro, indubbiamente noi siamo d'accordissimo sulla linea dura da tenere nei confronti di chi abusa del proprio posto di lavoro, a maggior ragione se è un posto di lavoro pubblico, perché ricordiamo un posto di lavoro pubblico vuol dire che è un posto di lavoro che dovrebbe offrire un servizio ai cittadini ed è pagato appunto da tutti i cittadini che con le proprietà se finanziano appunto un lavoratore pubblico. Però qual è il problema? Il problema è che negli ultimi anni abbiamo sentito parlare tantissime volte di assenteismo, ogni tanto vediamo il classico servizio in tv o il classico caso di lavoratore che timbra e poi se ne va da un'altra parte. Insomma periodicamente assistiamo che quando una classe politica è in difficoltà tira fuori la questione dell'assenteismo dei fannulloni nel mondo del lavoro, in particolare del lavoro pubblico e inizia la crociata contro il fannullone nel lavoro pubblico. Dubbiamente ripeto, non crede che il problema ci sia? Il problema c'è assolutamente e va affrontato e va affrontato come ho detto prima con estrema durezza. Però come va affrontato? Allora già oggi in teoria per esempio un dirigente pubblico che non denuncia potrebbe essere passibile di denuncia, quindi che non denuncia appunto un lavoratore che sotto nel suo ufficio sfrutto comunque e sta abusando di un permesso, già oggi il dirigente che non denuncia potrebbe essere passibile la sua volta di denuncia. Le regole come si dice già ci sono oggi, si possono velocizzare un pochino, ma il problema a nostro avviso non è quello. Il problema per esempio sono i controlli. Chi dovrebbe controllare ad esempio gli ispettori del lavoro sono pochissimi, non ci sono nel nostro territorio e sono sempre di meno a causa del blocco ad esempio del turnover. Com'è possibile che chi deve controllare, chi dovrebbe andare a girare per verificare se un lavoratore che ha chiesto un permesso per malattia sia realmente a casa o no, non c'è. Quindi è un problema di controlli, lei sostiene essenzialmente. È un problema di controllo. Secondo è un problema di esempi. Tutto questo viene fatto da una classe politica che per prima dà il cattivo esempio. In che modo dà il cattivo esempio? Dà il cattivo esempio per esempio perpetrando il conflitto di interessi. Una classe di politico oltretutto, di persone che è politico di professione, che non sa che cosa voglia dire stare nel mondo del lavoro ad esempio. Come fa a normare o a conoscere i problemi che sono realmente nel mondo del lavoro? Ci sono una serie di problemi che indubbiamente... La interrompo così, andiamo avanti con i nostri servizi. Circolare ministeriale come veniva suggerito nel servizio o queste norme? Perché i dirigenti dal canto loro criticano e ritengono troppo severe le sanzioni. Ma, ripeto, noi siamo d'accordo con la linea dura contro questo fenomeno. Tutto quello che viene fatto per arginare questo malcostume, indubbiamente, va bene e va nella giusta direzione. Ora, anche qui però c'è sempre un problema. Chi controlla i dirigenti? Chi controlla poi che quel dirigente non ha denunciato o non ha denunciato il malcostume e i lavoratori che sono nel suo ufficio? E poi, noi siamo, come dicevo prima, il buon esempio. Cioè, noi siamo, gli italiani sono abituati a questa classe politica che di fatto ha utilizzato la pubblica amministrazione e in parte continua a farlo come un bacino clientelare di voti. Assunzioni in maniera clientelare. Lei lo sa che nei ministeri ci sono tantissimi, nelle amministrazioni pubbliche, sono tantissimi dirigenti che sono stati assunti dalle varie classi politiche, varie che sono susseguite in questi anni, in maniera diretta e senza concorso. Ma la classe politica chiamava dei dirigenti con dei contratti a tempo determinato e poi nel tempo con varie proroghe, varie sanatorie di fatto, sono stati stabilizzati senza aver svolto concorso nella pubblica amministrazione. Stiamo pagando gli errori del passato, ma guardiamo al futuro. Come possiamo pretendere queste persone, poi, sì, certo che guardiamo al futuro, ma sono le stesse persone che adesso vorrebbero cambiare queste norme. Ecco, quando dicevo prima il problema dell'esempio, è fondamentale. Va bene mettere le maggiori responsabilità in capo ai dirigenti, ma poi chi controlla i dirigenti? E poi, per esempio, faccio un esempio di incongruenza. Come fa un dirigente a sapere che quel lavoratore sta facendo qualcosa e sta arrecando anche un danno di immagine alla pubblica amministrazione? Il danno di immagine avviene nel momento in cui una TV, ad esempio, pubblica, come è avvenuto in questi casi, il video in televisione dell'assenteista, ma non lo può sapere il dirigente prima. Questo per far capire che spesso... A Montre ci deve essere però il comportamento illecito di cui le dirigenti dovrebbero rendersi conto. Però questo per spiegarle che molti problemi sono stati fatti sull'onda dell'emotività e sull'onda della propaganda politica, ma a nostro avviso non andranno a incidere realmente, purtroppo, sull'efficacia nel servizio che il lavoratore pubblico dovrebbe rendere ai cittadini. Veniamo a... Onorevole Veracca, voi non condividete questa decisione, questa riorganizzazione del corpo forestale, perché? Ah no, perché ci fa capire la malafede della classe politica che spesso sull'onda di alcune notizie che arrivano, insomma, alle opinioni pubbliche, in realtà nascondono degli intenti che sono invece contrari agli interessi dei cittadini. Io vengo da una regione, ad esempio l'Abruzzo, che ha tre parchi nazionali, che ha il più alto tasso di aree protette dell'Italia, del nostro paese, e io conosco l'operato del corpo forestale dello Stato, un operato che è stato fondamentale, per esempio, per scoprire tantissime reati ambientali che sono stati perpetrati nel nostro territorio. Faccio un esempio, noi abbiamo la discarica chimica abusiva più grande d'Europa, il cosiddetto sito inquinato di bussi, e il corpo forestale ha avuto un ruolo importantissimo proprio nella scoperta, una discarica che rischiava di avvelenare, che si ha fatto bere a moltissimi cittadini acqua inquinata per anni e anni. Ebbè, il corpo forestale ha avuto un ruolo importantissimo nella scoperta di quel danno che si stava realizzando in quel territorio, ma ci sono tantissimi esempi del genere. Quindi voi ritenete che verrà indebolita la tutela del territorio? Verrà indebolita la tutela del territorio e oltretutto non ci sarà di fatto nessun risparmio per le casse dello Stato. Questo è quello che bisogna dire ai cittadini. Perché il governo ha deciso di intervenire in un settore che di fatto non apporterà nessun beneficio per le casse dello Stato, neanche come spendi review, ma che apporterà soltanto dei danni, perché si sta vanificando, si sta annullando un patrimonio di esperienze, di competenze nella tutela del territorio, che invece è fondamentale. Sentiamo Vacca, questi numeri vi soddisfano? No, perché non sono veri innanzitutto. I 4 miliardi di spedizia scolastica sono una balla che il governo continua a dire, a ripetere in continuazione, ma non ci sono. Ci sono soltanto alcune centinaia di milioni di euro messe per il progetto Scuole Belle, ma che in realtà sono serviti per dipingere fino a due metri e mezzo di altezza, perché chi andava a dipingere non poteva dipingere oltre le scuole, ma non sono serviti in realtà a risolvere i gravi problemi delle nostre scuole. Do soltanto un dato. L'anno scorso Renzi aveva detto che da quest'anno si sarebbe risolto il problema, appunto, come diceva prima, della supplentite. Ebbene, solo quest'anno ci sono state 100 mila supplenze annuali, 100 mila, più probabilmente dell'anno scorso. Il concorso di cui si dice 60 mila nuovi assunti serviranno a malapena, anzi non ci riuscirà probabilmente, a coprire il turnover dei prossimi tre anni, perché si prevede al 2017 un'onda di pensionamento, e al 2018 ancora di più un'onda di pensionamento nel mondo della scuola enorme, gigantesco. Si parla di 70, 80, 90 mila pensionamenti, soltanto in un anno. Quindi i 60 mila non serviranno a coprire né il turnover, né le 100 mila cattere che sono ancora vacanti. Si lascia fuori una gran fetta di abilitati che invece sono serviti in questi anni proprio a coprire queste supplenze. Il governo adesso li sta mettendo da parte e si dimentica di loro. E come i problemi nelle nostre scuole appunto restano tutti come l'anno scorso, se non peggiori. C'è il cosiddetto organico potenziato, di cui tanto si vantava il governo Renzi. Bene, questo organico potenziato che cosa è successo? Le scuole hanno chiesto docenti di matematica inglese o educazione fisica e sono ritrovati docenti di tutt'altre materie che non sapendo cosa fare in quella scuola di fatto sono diventati tappabuchi e vanno a rincorrere a coprire le supplenze di qualche ora ma non servono veramente alle scuole. Ecco, con il riordino delle classi di concorso.